Benvenuti su Sicilia Way, oggi ospite nostro il senatore Mario Giorrusso del Movimento 5 Stelle. Grazie dell'invito e salve a tutti. Mi sembra quasi doveroso iniziare dalla legge di stabilità che è in discussione in questi giorni. Quali sono le proposte che avete fatto come Movimento 5 Stelle? Guardi, noi abbiamo esaminato la legge di stabilità ed è un grande, grande problema perché la legge di stabilità, come tutte le leggi finanziarie, è incastrata nel gioco delle coperture. Cioè toccare un elemento della legge finanziaria comporta far venire meno un'entrata o aggiungere una spesa. Lei consideri che per prepararla impiegano mesi e mesi e mesi la ragioneria dello Stato. Quindi noi abbiamo ricevuto un lavoro di sei mesi e nell'arco di pochi giorni, una settimana, dieci giorni, abbiamo dovuto studiarlo e cercare di raddrizzarlo. Diciamo che è più semplice riscriverlo che non modificare un orientamento. Un orientamento che peraltro è chiaro dall'indirizzo del governo. Non ci sono manovre eque da parte di questo governo, cioè che mettono al centro degli interessi dell'azione di governo i cittadini. Ci sono manovre che tendono a avvantaggiare sempre alcune lobby ben precise, che sono quelle delle banche, che sono quelle del gioco d'azzardo, interessi ben determinati. Quali sono le proposte esatte che avete fatto voi su 3.000 emendamenti che mi pare sono stati presentati? Guardi, i 3.000 emendamenti lasciano già intendere che la stessa maggioranza, perché moltissimi sono della maggioranza, ha criticato aspramente la manovra. Addirittura il PDL per bocca di Berlusconi, il nodo pregiudicato, diceva che bisognava addirittura cambiare la legge di stabilità perché non andava bene. Noi ne abbiamo presentati diverse centinaia, ogni commissione ha presentato la sua. Noi siamo nella commissione giustizia con il Movimento 5 Stelle e personalmente abbiamo lavorato a un indirizzo preciso. Allora, nella legge di stabilità si prevedeva un aumento dei costi per accedere alla giustizia tributaria. Ora, in un momento come questo, in cui il governo a parole dice aiutiamo le imprese, aiutiamo chi è in difficoltà, impedisce ulteriormente di accedere all'impugnazione delle cartelle esattoriali, per esempio, perché mettere un costo più elevato vuol dire a chi è già in difficoltà per l'arrivo di una tassa impedire di potersi avvalere della giustizia o di rivendicare la scorrettezza dell'operato dell'amministrazione. È un atto gravissimo in questo momento, cioè noi dobbiamo cercare di aiutare chi è in difficoltà e non opporre ulteriori ostacoli. È stato sbandierato il problema dei detenuti, delle carceri, delle condizioni di vita inumane, tutte cose giustissime, utilizzate però per uno scopo, secondo noi, criminale, l'indulto all'amministia. Ebbene, noi abbiamo scoperto che nella legge di stabilità c'era il blocco delle assunzioni anche per il personale della polizia meditenziaria. Ora, siccome questi a parole dicono che vogliono migliorare le condizioni dei detenuti aprendo ulteriori strutture, noi ci domandiamo ma le ulteriori strutture come vanno? In autogestione le gestiscono direttamente i detenuti o ci vuole il personale che già è sottostimato perché con il blocco degli anni passati noi abbiamo polizia penitenziaria in numero inferiore a quella prevista perché non vengono coperti chi va in pensione, chi lascia il lavoro, chi muore. Questi posti non vengono coperti. Quindi noi abbiamo chiesto che venissero aumentati il personale della polizia penitenziaria in modo da consentire l'apertura di nuovi padiglioni e di nuovi spazi. Questo è quello che i cittadini si aspettano da un governo che faccia le cose che dice. Invece qua abbiamo una differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa. Si vogliono aiutare le imprese e si alzano le tasse per impugnare le cartelle esattoriali. Si vogliono aiutare i cittadini detenuti e invece di cercare di migliorare il loro ambiente di vita si cerca di mettere in libertà i soliti noti e i privilegiati. All'interno di questa legge presentata al governo c'è poca Sicilia e poche infrastrutture? C'è poco perché i fondi sono indirizzati su altro. Appunto. Noi abbiamo chiesto che venissero utilizzati fondi che sono concentrati su grandi opere dannose e inutile tipo la TAV, ulteriori spese per l'Expo, venissero spalmate invece su tutte le infrastrutture del nostro paese che sono decrepite. Io ho girato la Sicilia in campagna elettorale e abbiamo avuto un quadro devastante di tutta la rete viaria della Sicilia. Appena si esce fuori dalla provincia di Catania, possiamo parlare della provincia di Enna ma anche la Grigentino, sembra che sia un territorio che è stato bombardato e mai più ricostruito. Ora come si possa parlare di infrastrutture quando mancano letteralmente le strade per andare da un paese in un ospedale? Perché poi accadono anche queste cose, no? Si chiudono gli ospedali dicendo al 10 km c'è un altro ospedale e quindi i cittadini possono tranquillamente, uno pensa 10 km li fa in 10 minuti e invece noi abbiamo visto che per fare 10 km bisognava fare un giro di 40 km perché le strade erano distrutte, c'erano punti, mi raccontavano, dove le ambulanze passavano a fatica, dove la gente praticamente per arrivare in un ospedale muore. Quindi di fronte a queste cose evidentemente non stanziare risorse per queste attività ma concentrarle soltanto su poche grandi opere che aiutano gli interessi criminali perché la concentrazione consente di applicare a quella grande opera la maggiore pressione criminale possibile sia in termini di tangenti sia in termini di penetrazione della mafia. Come abbiamo visto con le inchieste, non è che ce lo stiamo inventando noi. Sono stati stanziati 340 milioni, forse qualcosina di più, per la Sarello Reggio Calabria per 2014-2016 il triennio. Si dovrebbe puntare anche a un piano viario, ferroviario, diciamo più interessante all'interno della Sicilia. E le racconto il piano ferroviario per capire a che punto è, una volta diceva uno scrittore, a che punto è la notte. La notte sul nostro paese è notte fonde e non si vede la luce. Quando Ferrovie dello Stato aveva presentato un progetto già operativo, cioè non di massima, ma già cantierabile per consentire il collegamento fra Catania e Palermo in due ore e mezzo con una spesa di 7 milioni di euro. Ma ci sono progetti realizzabili? Hanno progettato, era un progetto cantierabile in 20 mesi, raddoppiava la linea ferroviaria, cioè era tutto pronto. Ebbene, che cos'è che la cattiva politica, la mafia, la massoneria e i tangentisti hanno pensato? Di fare la mega maxi operazione, spendendo 200 milioni di euro per fare un tunnel di 16 chilometri, non so 15, una cosa folle che passa attraverso i Nebro, in pieno parco. Non c'è bisogno. Non solo non c'è bisogno, è un'opera che devasterà ulteriormente il territorio, gli unici che hanno bisogno di questa opera sono i politici corrotti, le imprese che non sono sul mercato ma vivono di corruzione, questo è quello che si vuole fare. Allora si drenano risorse perché ovviamente concentrare poi centinaia di milioni di euro su un'opera del genere impedisce che in 20 mesi si abbia un collegamento Fagatani e Palermo su ferro serio, vero e duraturo, che si possano spendere quei soldi per ristrutturare le strade, fare altre infrastrutture che sono fondamentali. Questo è il principio su cui opera la nostra cattiva politica, non fare le cose utili ai cittadini, fare le cose utili alla mafia e alla corruzione. Ma c'è la possibilità di fare qualcosa per realizzare queste opere? Guardi, i cittadini il 25 febbraio hanno dimostrato che c'è la possibilità di fare qualche cosa, noi siamo là dentro e difendiamo gli interessi dei cittadini, disvelando queste cose e cercando di impedirle, cercando di orientare non solo per impedire le opere dannose, ma per fare realizzare quel minimo di opere che servono. Le faccio un esempio di un'infrastruttura che non è viaria, ma è fondamentale per lo sviluppo di un paese. Le scuole, le nostre scuole stanno letteralmente cadendo in testa agli studenti. Quanto lavoro ci sarebbe se si investissero, non dico la metà, ma meno della metà dei soldi che si spendono per fare la guerra in Afghanistan, che sono miliardi di euro, soltanto per ristrutturare seriamente le scuole d'Italia? Quante imprese spalmate su tutto il territorio nazionale potrebbero lavorare? I nostri ragazzi avrebbero un ambiente più idoneo dove studiare? Non ci dobbiamo dimenticare che è un paese civile, la prima infrastruttura di cui ha bisogno è la scuola, perché noi così prepariamo i cittadini, i lavoratori del domani. Adesso prepariamo soltanto nuovi disoccupati e nuovi disperati. Un commento sull'operato di Crocetta? Crocetta è partito male, malissimo, e sta finendo peggio. È partito male perché ha messo assieme una maggioranza assolutamente disomogenea, un carrozzone di gente con interessi contrapposti. Adesso si è reso conto di essere come il comandante in una imbarcazione che è in continuo ammutinamento. Gli uni con gli altri lottano, paralizzano, lui cerca di fare qualche cosa, qualcun altro gliela disfa, qualcun altro gliela fa alle sue spalle ed è sempre là a cercare noi di poter andare avanti. Noi abbiamo bisogno di un governo serio e coerente. Governi di questo tipo che mettono assieme forze assolutamente disomogenee che hanno e perseguono obiettivi di emetramento opposti, non ne possiamo avere perché questo si paga, lo pagano i cittadini. La mancanza di coerenza è pagata da tutti noi. Quanto durerà questo governo? Quello regionale o quello nazionale? Tutti e due. Guardi se lo sapessimo, lo vorrebbero sapere per primi il governatore Crocetta e il presidente del Consiglio Letta e tanti altri milioni di italiani, non lo sa nessuno. Certamente per il governo nazionale che è una specie di tavola su cui si sono aggrappati i naufraghi della vecchia politica, sono aggrappati ben stretti a questa tavola e non la mollano. Quindi io penso che continuerà questo governo a fare disastri ancora purtroppo per molto tempo. Voi potreste evitarlo magari? Noi cerchiamo in tutti i modi di evitarlo, cerchiamo in tutti i modi di evitarlo, ma non mollano, non mollano l'osso. Sono disposti anche a mollare persino Berlusconi pur di restare aggrappati a questo governo. Quindi purtroppo le premesse per un cambiamento reale in questo momento non ce ne sono. Noi stiamo lavorando, quando noi diciamo mandiamoli a casa, non è uno slogan populista, è la necessità che ha questo paese di un ricambio della classe dirigente politica che venga sostituito da chi fa gli interessi dei cittadini e non più delle lobby. Lei l'ha visto, abbiamo avuto una sanzione per la lobby del gioco d'azzardo che sta devastando questo paese, il gioco d'azzardo sta devastando questo paese e invece di sanzionarli, come prevedeva la magistratura, con un pagamento di 2 miliardi e mezzo di euro, gli hanno fatto uno sconto, pagano 500 milioni di euro e se ne escono. Gli hanno regalato quasi 2 miliardi di euro. Poi vanno a chiedere ai poveri cittadini che non hanno soldi le tasse sulla casa, le tasse sulla raccolta differenziata che non viene fatta, ogni sorta di cose. Io sono stato a Siracusa, sono stato a Siracusa a proposito di gioco d'azzardo e sono rimasto inorridito quando mi hanno presentato una stima dei soldi che vengono spesi in provincia di Siracusa solo per il gioco d'azzardo, dai cittadini disperati. 300 milioni di euro l'anno. Voi, e invito tutti a chiudere gli occhi e a pensare, 300 milioni di euro in un anno, in una provincia, quante cose si fanno? Si vanno a comprare i vestiti nuovi, si fanno delle istituzioni nelle case, cioè si mette in moto l'economia. Invece di mettere in moto l'economia e farla andare, si tolgono i soldi, perché quando vanno alle multinazionali del gioco d'azzardo, dietro i cui ci sono interessi innominabili di politici e di delinquenti, questi soldi vengono portati fuori dall'Italia, proprio portano ricchezze altrove e depredano un territorio. Si ricomincia a parlare del casino di Taormina? Allora, noi siamo in un grande casino, mi scusi la frase. Il gioco d'azzardo ormai è stato legalizzato nel nostro paese. Quando dicono che il gioco d'azzardo è vietato, purtroppo non è così. Il nostro paese è diventato un grande casino. No, noi siamo in Italia, io ho visto le stime, c'è il 15% di tutto il gioco d'azzardo del pianeta. Il 15% è solo in Italia. Si parla di un giro d'affari di 100 miliardi di euro. Noi dobbiamo chiudere questa stagione. Grazie. Grazie. Grazie a tutti